Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Wendy Oggi vi porterò all'interno della casa di Babel E' un personaggio molto bello all'interno della serie tv Ho messo anche la maglietta apposita E' davvero stupenda, soprattutto E' come il personaggio Come potrete notare Qua a Tokyo Ha i capelli a caschetto Che non ha nella seconda o terza stagione Scusate, non ricordo Poiché si ritaglierà Perchè si ritaglierà Scusate, è la moto sottofonda Purtroppo fa un casino assurdo Apriamola Davvero stupenda La faccio vedere più da vicino Davvero adorabile Fa rumore fantastico E' fatto benissimo Scusate, sì, 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 sì Vediamo se purtroppo... No No Non rimane in piedi, scusate Scusate Perfetto Perfetto Ecco Ecco Con l'appuccio Rimano ai piedi Ecco qua Scusate Voglio fare un po' di rumore sulla plastica Davvero stupenda Se avete qualche domanda da farmi Se avete qualche domanda da farmi potreste scrivermela sui commenti Ho intenzione Ho intenzione di fare un video dove rispondo alle vostre curiosità Un saluto e buona giornata a tutti I sbagliato Che Luko Chè Pronti